Anticipazione una vita. Giovedì 24 giugno 2021. Felipe si emoziona quando vede che Marzia non è ancora partita e cammina tranquillamente per le strade del quartiere. Inoveva si rende conto di tutto ma l'albare sermoso le fa un importante giuramento. L'avvocato infatti sostiene di non essere più interessato alla ragazza che ormai non significa più niente per lui. Liberto svela Camino che ad aver denunciato Maite è stata semplicemente una lavandaia che le aveva viste insieme. Liberto si fa promettere dalla Passamare che non farà niente contro questa donna e che manterrà la calma. Camino ha ancora dei sospetti su sua madre. Veglita e Julio si incontrano casualmente nel quartiere e la donna inizia a provare una forte simpatia per il giovane. Così gli offre di andare con lei a prendere il caffè. Successivamente la del campo ne parla con José sostenendo che Julio sia davvero un bravo ragazzo. L'uomo resta sconvolto e teme che la verità possa emergere da un momento all'altro. Grazie. Grazie. Grazie.